Scelte! Partiti! L'arte eccellente poco prima dell'ingresso addirittura in vantaggio Super Bombasiti davanti a Ricattatrice Maranatà e l'arte eccellente i cavalli entrano addirittura con Super Bombasiti in vantaggio attaccata all'esterno da Merite tra i due Maranatà lungo la corda Piana Bruna seguono l'arte eccellente passa Merite davanti all'arte eccellente Piana Bruna, Maranatà e Kulan Fast in vantaggio Merite davanti all'arte eccellente e Piana Bruna resiste Merite davanti all'arte eccellente Piana Bruna e Kulan Fast Grazie 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 a tutti